Gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestione Immacolata Acconcia, hanno tratto in arresto due fratelli di 20 e 38 anni, entrambi marocchini, disoccupati e già noti alla forza dell'ordine per diversi precedenti. Sono ritenuti responsabili di spaccio di stupefacenti. Gli agenti, a capaccio pessimo nell'abitazione dei due stranieri, hanno rinvenuto una busta nella quale erano stati celati otto pezzi di hashish del peso di grammi 32,4 e sette involucri di cocaina del peso di grammi 4,5, oltre 500 euro, provento dello smercio di droga, una quarantina di grammi di stupefacenti tra hashish e cocaina. I due fratelli, dopo essere stati arrestati, sono stati condotti presso la loro abitazione gli arresti domiciliari.